Ho un mazzo di carte particolare in quanto c'è un assistente disegnato nel suo teatro Guarda che succede, dimmi la carta, quella che vuoi Asso di quadri Asso di quadri L'asso di quadri, eccolo qua, la carta per te Ci siamo? Sì La mettiamo qui, guarda Anzi, facciamo così, la squadra la lasciamo qua sul tavolo Va bene? Ok L'assistente Ti dicevo che è molto particolare, guardate che succede L'assistente Attenzione Non perderlo di vista Ed è, se ne va il cappello Mette la mano nel cappello È animato È animato Tira poi una carta Una sola carta E guarda un po' Il nuovo lasso di quadri E' questa Bellissimo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.